Ciao ragazzi, nella scorsa puntata ci siamo lasciati con il primo programma scritto, quindi un semplice codice che va ad accendere e spegnere ripetutamente il led integrato della scheda Arduino. In questo episodio andiamo a prendere in mano la prima elettronica e quindi trasferire il codice che va ad accendere e spegnere il led integrato su un led esterno, quindi andiamo a prendere e maneggiare i primi componenti elettronici con il nostro Arduino. Apriamo quindi il semplice programma con cui ci siamo lasciati la scorsa volta, ovvero un codice che va a inizializzare il led, il pin su cui è posizionato il led, va ad accenderlo, aspetta un secondo, va a spegnerlo e aspetta un altro secondo. Se noi volessimo cambiare adesso il pin dovremmo farlo in tutte e tre le posizioni in cui noi richiamiamo il pin 13, quindi questa, questa e questa. Se volessimo cambiare il tempo dovremmo farlo in questa e in questa. Ma c'è un modo per cambiare, siccome il pin è lo stesso e il tempo è lo stesso, cambiarli contemporaneamente modificando un solo valore? Sì, ed è utilizzando le variabili. Cosa sono le variabili? Le variabili sono dei dati modificabili associati ad uno spazio di memoria e più questo spazio di memoria sarà pieno, più le variabili avranno un valore. Facciamo un esempio. Io creo la variabile tempo e alla variabile tempo assegno valore mille. E cosa succede? Se io scrivo delay tempo, siccome la variabile tempo avrà valore mille, il delay aspetterà mille millisecondi e quindi sarà equivalente. Allora cosa faccio? Inizializzo, prima del setup, la variabile tempo int tempo Perché questo int? Questo int sta a identificare il tipo della variabile Il tipo di variabile che abbiamo utilizzato in questo caso è un tipo intero ovvero potrà assumere dei valori che sono dei valori interi quindi meno 2, meno 3, meno 10, 1, 2, 3, 4, 5 e così via quindi sia positivi che negativi senza virgola e noi alla variabile tempo diamo valore mille e quindi possiamo sostituirla sia al delay tempo possiamo sostituirlo a tutte e due le linee di codice Adesso creiamo la variabile pinLED quindi il pin a cui è collegato il LED e gli diamo valore 13 andiamo a sostituire semplicemente CTRL-C, CTRL-V copia e incolla andiamo a sostituire il 13 con il pinLED e questo cosa significa? Che questa scritta qua significherà la stessa cosa di quella che avevamo prima quindi inizializza il pin in output quale pin? il pinLED che è il numero 13 alza la corrente sul pinLED che è il numero 13 aspetta del tempo che sono mille millisecondi spegni la corrente sul numero 13 che è il pinLED e aspetta sempre il solito tempo che sono mille millisecondi in questo modo cosa andiamo a fare? se andiamo a modificare il tempo sulla riga di codice qui così quindi invece che tempo 1000 diamo tempo 100 modificando una sola riga di codice avremo modificato tutti i tempi del nostro programma e allo stesso modo modificare il LED se invece noi scegliamo il 12 come pin collegato al LED lo modifichiamo in tutto il codice andando ad alterare semplicemente un valore a questo punto bisogna però specificare una cosa a proposito delle variabili ci sono due modi di dichiarare una variabile esterna quindi globale come potete vedere è all'esterno di tutte le funzioni non è dentro il setup non è dentro il loop è proprio all'esterno questa variabile è definita di tipo globale perché potrà essere utilizzata sia dal setup che dal loop che da tutte le funzioni nel nostro programma infatti se andiamo a compilare il nostro programma ce lo dà corretto se invece andassimo a prendere per esempio il pinLED la variabile pinLED e la dichiarassimo all'interno del setup diventa una variabile locale quindi è localmente utilizzabile all'interno della funzione setup cosa succede? che nel loop andiamo comunque a richiamare questa variabile andiamo a richiedere il valore della variabile pinLED e quindi se andassimo a compilare il nostro programma ci spunterebbero fuori diversi errori che sarebbero sempre lo stesso insomma si dice errore la variabile pinLED non è stata dichiarata a questo scopo non è stata dichiarata affatto è stata solamente dichiarata localmente per la funzione setup e quindi la funzione loop non la può vedere che vantaggi hanno le variabili locali? se io devo utilizzare una variabile solamente all'interno di una funzione e la dichiaro localmente quindi una variabile locale potrò dichiararne una con lo stesso nome all'interno di una funzione che magari è simile e in questo modo generalizzare i nomi delle variabili e non creare confusione con variabili simili quindi se io ho due funzioni che devono fare due cose diverse e mi serve una variabile nella prima funzione che sia tempo e una variabile nella seconda funzione che segna anche questo al tempo potrei chiamarle tempo1 e tempo2 creando un po' di confusione se le funzioni saranno 400 quindi mi devo ricordare a memoria tempo1, tempo2, tempo3, tempo4 fino al 400 in quale funzione ho utilizzato quale tempo diventa abbastanza difficile come cosa e allora utilizzo le variabili locali dato che posso chiamarle tutte quante tempo posso chiamarla tempo nella funzione 1 posso chiamarla tempo nella funzione 2 e così fino alla 400 perché siccome sono locali non sono visibili dalle altre funzioni che ne riconosceranno una sola e quindi utilizzeranno il suo valore quindi noi per comodità andiamo a autoutilizzare le variabili globali perché in questo modo saranno utilizzabili sia dalla funzione setup che dalla funzione loop se noi andassimo adesso a riportare i valori come quelli che avevamo prima quindi 1000 millisecondi di tempo e il led 13 prendiamo la schedina arduino e ricarichiamo il codice vediamo che il programma è lo stesso dell'altra volta quindi il nostro led che si accende e si spegne a intervalli di un secondo e quindi cosa facciamo adesso? passiamo all'elettronica non vogliamo più far accendere il led integrato ma vogliamo far accendere un led esterno per fare ciò naturalmente ci serviranno degli altri componenti ci servirà innanzitutto il nostro led perché è un po' difficile riuscire ad accendere un led senza avere il led ci serviranno poi dei cavi per collegare il led all'arduino per fare tutti i collegamenti in modo semplice senza necessità di saldature essendo molto comodi utilizziamo una breadboard che è questa piastra che è questa piastra buccherellata sulla quale si potranno inserire questi cavetti chiamati jumper per creare i collegamenti tra i nostri tra i vari componenti elettronici per collegare il led all'arduino sarà necessario anche mettere un resistore nel circuito attenzione questo componente si chiama resistore e non resistenza come viene erroneamente chiamato da molte persone resistenza è la grandezza fisica della proprietà che va a esercitare quindi un resistore esercita resistenza nel nostro circuito ma il componente si chiama resistore andiamo quindi a vedere come funziona la breadboard la breadboard possiede diversi buchi molti di questi sono collegati tra loro sono collegati a linee le linee al centro saranno collegate orizzontalmente le linee ai lati saranno collegate verticalmente questo cosa significa? che tutti i buchi di questa linea orizzontale saranno collegati assieme e tutti i buchi di questa linea verticale saranno collegati assieme questo cosa significa? che se noi colleghiamo un componente qua e un componente nella stessa linea qua in fondo è come se saldassimo dello stagno tra i due fili e quindi li mettessimo in contatto questa linea e questa linea sono staccate tra loro e quindi indipendenti ma adesso mi sto anche dilungando un po' troppo andiamo subito a vedere il collegamento con l'arduino prendiamo il led un led a due piedini uno un po' più lungo e uno un po' più corto il piedino un po' più lungo andrà collegato al voltaggio quindi in questo caso al pin dell'arduino mentre il piedino un po' più corto andrà collegato alla messa a terra o messa a massa come preferite chiamarla identificata dalle lettere gnd sempre sull'arduino quindi lo prendiamo e lo colleghiamo sulla breadboard in questo caso lo colleghiamo in modo tale che il pin più lungo stia a sinistra e il pin più corto a destra mettiamo qui così adesso realizziamo i collegamenti tra l'arduino e la breadboard prendiamo il cavo nero il cavo nero come abbiamo detto andrà collegato alla messa a terra quindi al gnd e andrà direttamente collegato al piedino piccolo del del led ci servirà un altro cavo che andrà collegato ad un pin qualsiasi quello che vogliamo utilizzare per alimentare il led in questo caso utilizziamo il pin 8 e lo colleghiamo non direttamente al led ma ad una linea a caso della breadboard a questo punto dobbiamo frapporre il resistore tra l'alimentazione quindi il cavo arancione e il led come scegliamo un resistore un resistore in questo caso si sceglie in base al voltaggio dell'arduino ai milliampere consumati dal led e da un altro valore che è la tensione del led se noi abbiamo questi dati possiamo calcolare il valore del resistore più basso in modo tale da avere il led il più luminoso possibile oppure utilizzare un resistore a 220 ohm i più alti saranno gli ohm e maggiore è la resistenza che questo componente andrà a produrre un resistore a 220 ohm andrà bene con praticamente tutti i tipi di led e siamo sicuri di non causare danni di non bruciarli di non avere alcun problema quindi lo prendiamo e andiamo a piegare le estremità e lo colleghiamo al pin dell'arduino che sarà il cavo arancione e alla gamba più lunga del led verde torniamo quindi adesso al nostro programma se andiamo sulla variabile pin del led e la cambiamo da 13 a 8 e ricarichiamo il programma notiamo che non sarà più il pin 13 quello integrato dell'arduino a lampeggiare ma sarà il led collegato al pin 8 e quindi abbiamo realizzato il nostro primo circuito elettronico ok penso non ci sia altro da dire per questa puntata e quindi vi do appuntamento alla prossima settimana dove andremo a collegare più led all'arduino in modo tale da creare un circuito leggermente più complesso da Francesco un saluto alla prossima puntata grazie a tutti